bella ragazzi e benvenuti a questo nuovo video io sono pochi e oggi siamo tornati su pokemon rambo rush prima di prima di proseguire vediamo un po che cosa ha da dirci telia la ricerca di una ragazza è terminata grazie dell'aiuto ecco la seconda della tua ricerca specie di pokemon catturato è 14 totale di pokemon catturati 28 pl massimo 841 bene l'indicato alla prossima ricerca si sa quali pokemon tattando ma rentei in quest'ora sono stati avvistati entri e su dovuto e ha perso un libro ma c'è almeno 4 specie di padre ok allora aspetta prima di proseguire vediamo un po le sfide che ci propongono ok roti timon lì di telia ok devo affrontare dei manchi e dell'ichmon chan ricordate che questo non è l'unico pokemon che sta portando eh c'è anche pokemon smeraldo hitmon lì pokemon tira calci devo affrontare anche di tyrog missy gara è fattuto subito 48 secondi allora ottenuto un manchi con garanzia hitmon chan con calcio basso un manchi con punizione hitmon lì con finta attacco e 66 monete bene allora ricerca insomma è vero che qua risposto in circa attrazione è anche un mien fu è un mien fu e di toto da elf Mizzica! Che succede oggi? Papkabù normale con questo momento un altro Papkabù normale con questo momento è un mien fu con un bruciapelo e 67 monete ok eh Drillboer, pokemon talpa devo aggiuntare anche l'esensio laschiamo fitta subito 36 monete è una prima esplorazione è apparso qui un MENKEY 120 commenti devo aggiornare un'altra specie di pokemon ok Bosco Drillboer di utente giapponese qua vabbò devo affrontare dei Larvitar Basta già affrontarlo Basta già affrontarlo un Drillboer un Minerale e una prima esplorazione un Minerale e una prima esplorazione e un Minerale un Minerale un Fuoco Plus una Noccia Plus e 500 Monete ok ok torniamo qua aspettate un attimo ok MENKEY MENKEY Pokémon Swimpanzè avete il gioco di parole? adesso 20 secondi sì 36 monete eh qualche appare un Quilava mmm 8 specchi di Pokemon, ok Cateria Cupitar, sempre di utente giapponese. Guarda la caduta massima, può pitar Pokémon, un guscio duro, un l'arbital commosso, un loggerola con azione, un altro l'arbital commosso, un bloclero da compartezza. E se santa cinque monete. Non si capisce niente. Dov'è fatta degli slaguma e un wolfix. Fletchhinder, Pokémon sfavillante. Brazza che mi ne dà l'alone. Quarantanove secondi. Uno slaguma con luce a tutto, uno slaguma con sassata, uno slaguma con forza antica e un fletchhinder con attacco rapido. 52 monete, una prima esplorazione e un minerale brillante. Presù, mi sa quanto tempo ci vorrà per scoprire cosa ci sta dentro. Questa è un nuovo minerale. 10 ore. Un kit vampata di qui lava, un kit mulinello di Wilmer, un fuoco plus, un coleottero plus, una lotta plus, un normale plus, una doccia plus, una carica su, un ghiaccio plus, un turbo per due, veleno plus, terra plus, volante plus, acqua plus, bullo plus, ah no, bullo è nuovo, erba plus e 7500 monete. Ok. 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 ok ok ah no ok 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 bene ah no aspetta aspetta ok aspettiamo qui lava vai qui lava pokemon vulcano beh questo divesto di un maiale va bene fantasi monete o la prima stazione ich ti molli vieni che quanti quanti Pokémon che ci sono 60 60 boss ok bene ragazzi io direi che per questa parte può essere tutto ciao e ci vediamo nella prossima parte vai